c'è un po' di vento ragazzi una cosa che non capita tutti i giorni salire sul burs khalifa e non trovare nessuno perché c'è un temporale e sta diluviando fa freddissimo e io sono zuppo ma devo per forza fare una foto di instagram non pensavo che potesse succedermi qualcosa del genere me ne capitano proprio di oggi